Augusta, all'ONG Mission Lifeline, sbarca donna e minore, attesa la petroliera Zagara, carica di migranti. La nave dell'ONG tedesca Mission Lifeline, che sosta a largo del porto di Augusta, attende l'autorizzazione del governo italiano alla Prodo in Rada. Nel frattempo, una migrante è stata soccorsa a bordo e, a causa delle sue precarie condizioni di salute, è stata trasportata a terra e è ricoverata all'ospedale Umberto I di Siracusa. Stava male e le sue condizioni non erano più compatibili con la permanenza a bordo del natante. Con la donna, un minorenne che dice di essere un familiare della paziente, il quale è stato trasferito in un centro d'accoglienza a sua disposizione della prefettura Aretusea. I due migranti sono stati visitati dal personale dell'USMAF per escludere malattie infettive. In attesa della decisione del governo sulla ONG tedesca, è stato previsto per le prossime ore l'arrivo nel porto di Augusta di altre due navi che hanno tratto in salvo migranti, che si trovavano a bordo dei gommoni e barche lungo il mar Mediterraneo. Si tratta della petroliera Zagara, con a bordo 59 migranti e un'altra nave su cui sono stati ospitati 88 stranieri. C'è un'altra situazione d'emergenza al porto di Catania. Sulla nave Humanity 1 viaggiano 179 sovravvissuti. Siamo entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte, ma l'abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dell'autorità del porto di Catania. Lo ha fatto sapere la ONG SOS Humanity. La nave si trova a circa 12 miglia dalla costa di Catania. L'imbarcazione non tanta si è avvicinata fino a 6 miglia, ma successivamente si è allontanata.